Solo un sorriso per le abruzzesi di Serie D, poi pareggie sconfitte. Il ribaltone per la panchina della Vastese in crisi di risultati è reduce della sconfitta a Recanati per 2-0. La società ha raggiunto un accordo col tecnico Gianluca Colavitto che dunque non è più l'allenatore degli Aragonesi. Al suo posto Massimiliano Favo che dirigerà domani il suo primo allenamento. Favo, napoletano, apprezzabile carriera da calciatore con tanta Serie B e 10 presenze in Serie A col Napoli, da due lustri allena tra Serie D e Lega Pro. Giulianova, Viterbese, Maceratesi, Ancona, Taranto e Campobasso, alcune delle squadre da lui dirette. Per la Vastese dunque si apre un nuovo corso. E se gli Aragonesi si leccano le ferite le cose non vanno meglio per il San Nicolò che cade a Pesaro con 4 gol su Gruppone confermando un inizio di 2017 terribile. 4-2 il finale, sempre quota 42, a braccetto proprio con i cugini vastesi. Sesto risultato utile di fine invece per il Pineto che contro la Jesina prova a vincere dividendo poi la posta. La classifica si alimenta di un altro punticino utile alla salvezza senza affanni. Eloquente è un dato, da sei turni i pinetesi non subiscono gol. Nel girone G gioca benissimo l'Aquila contro l'Arzachena che però passa in vantaggio. E Noam nella ripresa a salvare almeno un punticino per gli Aquilotti. Quattro squadre nel giro di 5 punti lasciano aperto ogni discorso in vetta alla classifica. Unico sorriso per l'Avezzano che da Corsaro batte il Muravera in rimonta. Gol nero-verdi di Padovani e Tariuc che replicano al vantaggio locale. Avezzano in tranquille posizioni di classifica. Grazie.